Sono diverse le notizie che si intrecciano in chiave mercato. Alcune fanno riferimento a nomi già citati in più circostanze. Mancano diverse pedine per completare la rosa a partire dal portiere, ma un po' in tutti i reparti bisogna intervenire con la difesa addirittura da allestire in toto. Nel pomeriggio di oggi a Mocconi è prevista la seconda amichevole in programma contro una formazione dell'equip dell'Associazione Italiana Calciatori della Calabria. Un altro test che serve a Mr. Drago per definire alcuni ruoli e valutare i miglioramenti della squadra, ma anche per conoscere meglio le qualità dei singoli. Nella prima uscita stagionale dei nuovi arrivi un'ottima impressione l'ha suscitata Nadir Minotti. Mr. Drago, anche se l'analisi e i termini possono sembrare illogici, ritrova per la prima volta Saric, mentre di questo ne siamo più che certi non ha nulla da valutare sulle qualità dei due tra virgolette vecchietti del gruppo, Galardo e De Giorgio. Sì, come sempre, io ci sono sempre, quest'anno è rimasto pure Pietro che... Ma Valentino mi suggerisce a tirare il carro, è vero? No, noi diamo sempre il massimo perché dobbiamo far vedere ai giovani che pur essendo qua da tanti anni dobbiamo sempre pedalare perché ogni anno è un campionato diverso. Da calzatore esperto quali sono le probabilità per il Crotone di riaffermarsi? Non ti dico ripetere il campionato, dai, riaffermarsi. No, la cosa nostra come ogni anno è la salversa perché non è facile ripetere il campionato dell'anno scorso perché ormai tutti quanti sanno che... Ma avranno sempre davanti il Crotone però Antonio? Sanno come... Che posto abbiamo preso l'anno scorso quindi l'anno prossimo ci aspettano tutti perché siamo sempre il Crotone, una squadra che gioca bene a calcio, che è rimasto il mister. Quindi dobbiamo stare sempre attenti perché ogni anno si parte sempre con un campionato diverso. La cosa importante da fare secondo me è quella di resettare un attimino quello che è stato l'anno scorso. Per quello che è il calcio in questo momento secondo me dobbiamo ripartire da quello di fare un attimino un passo indietro. Per quello di dire che è importante prima di tutto difendere la Serie B per la piazza di Crotone perché Crotone merita la Serie B ma è importante, altrettanto importante non la perdere. Perché poi retrocedendo, cioè aspettiamo un attimo ho sbagliato proprio il termine, facendo altri tipi di campionati diventa difficile. Quindi di importanza maggiore è difendere quello che è il campionato. Poi se si riesce a fare come l'anno scorso, diventare la squadra che fa divertire e che si vuole divertire perché raggiunge l'obiettivo a tre mesi dalla fine del campionato allora che ben venga. Non significa che non si può fare da premettere, però è un conto ripartire con un obiettivo playoff e un conto ripartire da squadra in società umile che siamo, ragionando per quanto riguarda l'obiettivo primario che è la salvezza. Le tue caratteristiche principali da mettere a disposizione di questa squadra quali sono? Ma penso che dopo due anni di Serie B ormai il campionato lo conosco abbastanza, quindi sicuramente un po' di esperienza anche se l'età è giovane e poi cerco di dare il mio contributo sia in fase offensiva che difensiva. Ovviamente devo migliorare in fase difensiva, visto che ho più doti per giocare palla, però ce la metterò tutta. È risaputo questo, il Crutone punta sempre sui giovani, attualmente è una squadra giovanissima, secondo te ci sono le condizioni per ripetere il campionato dell'anno scorso? Lo conosci bene il campionato di Serie B? Sicuramente siamo tanti giovani, però se riusciamo a capire quello che vuole il mister e fare quello che ci chiede, sicuramente possiamo dire la nostra anche quest'anno. Dopo ovviamente che ripetere quello che sarebbe un sogno anche per noi, quindi non si sa, cerchiamo di volare sulle ali dell'entusiasmo, essendo tutti giovani e di arrivare il più lontano possibile. Le dichiarazioni di Minotti mettono in risalto il clima disteso ed evidenziano la volontà da parte di tutti di creare un gruppo affiatato che possa tranquillamente raggiungere gli obiettivi previstati e magari ripetere la stagione passata. Grazie 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 Grazie